buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro e oggi davanti a voi potete vedere la scatola del galaxy grand 2 duos un telefono di cui si parla poco troppo poco perché tra tutta la selva di telefoni di samsung questo è tra i più interessanti tra le opzioni che possono essere più utili pur mantenendo una qualità elevata in quasi tutti i settori infatti questo galaxy grand 2 duos si presenta molto bene sotto diversi punti di vista volevo solo ringraziare techmania un attimo per averci prestato il dispositivo allora iniziamo dalla scatola scatola che ormai non ci stupisce più di samsung con materiali riciclati sempre un ottimo punto a favore anche i manuali come potete vedere tutti i fatti di materiale di carta di recupero abbiamo il caricato di batterie da viaggio molto piccolino che segue il colore del device come potete capire abbiamo un galaxy grand 2 duos bianco cavetto usb micro usb classico e le standard le cuffie standard auricolari di samsung questa volta non in ear cosa che abbiamo apprezzato particolarmente si sentono bene sono comode tendono ad ancorarsi molto bene all'orecchio preferisco sinceramente queste alle in ear che troviamo in altre confezioni questo a livello puramente personale allora chiudiamo la scatola passiamo ora però allo smartphone android vero e proprio come potete vedere le linee di design rimangono le solite di samsung da qui a due anni dall s4 in poi infatti il design del colosso sud coreano si è un po' abituato a queste linee che secondo samsung stessa sono vincenti quindi perché abbandonarle come il not però troviamo una cover in similpelle cover in similpelle che troviamo migliorata molto piacevole al tatto e in effetti dona anche una importanza a questo smartphone che altri modelli anche più blasonati non hanno per esempio anche qui a livello puramente personale preferisco molto di più questa soluzione che quella del recente galaxy s5 con quella plastica gommata puntinata questa secondo me è molto più elegante ve la vado a togliere allora quando andremo a staccarla naturalmente la cover sembrerà molto più fragile molto qualitativamente molto meno robusta però quando si ancora al telefono il suo feeling è estremamente buono allora vanno batterie come potete vedere qua abbiamo lo slot per la micro sim e qua per la sim normale sotto non so se riuscite a cogliere qua sotto possiamo mettere un ulteriore sim essendo la versione duos e sopra abbiamo il vano per la micro sd quindi sim normale, micro sim e micro sd una configurazione che Samsung adotta spesso nei suoi telefoni dual sim allora andiamo a chiudere come potete vedere si chiude molto bene ed è molto solido sinceramente è un design che mi piace molto molto pulito poi mantiene come l'S4 questa texture che si vede leggermente puntinata molto bella e molto elegante allora a livello di dimensioni siamo di fronte a uno smartphone android importante infatti abbiamo 146 x 75.3 x 8.9 mm di spessore quindi ho uno smartphone abbastanza grande del peso di circa 163 grammi quindi abbastanza pesante non tra i più leggeri comunque il display è importante visto che ci troviamo di fronte a un 5.25 pollici quasi un phablet quindi anche in questo caso è da valutare anche quello che ricercate a livello di portabilità anche se non vi nascondo che tenerlo in tasca è abbastanza comodo ormai siamo abituati a dispositivi tipo un Note 3 molto più grandi anche se poteva essere ridotta ancora un po' più il limite la cornice qua ai lati che qualche millimetro poteva ancora perderlo andiamo adesso a sbloccare lo smartphone come potete vedere abbiamo il tasto di blocco sblocco sulla destra con un ottimo feeling al tatto oppure il tasto home anche questo ottimo feeling che ci permette anche lui di sbloccare il device schermata di blocco sblocco di ultima generazione come potete vedere e subito troviamo lo smartphone operativo a livello hardware come detto ci troviamo di fronte a un display da 5.25 pollici TFT niente super AMOLED però un ottimo TFT veramente buono non c'è niente da non ha problemi ad confrontarsi anche con i migliori AMOLED anche se ha i limiti logici del TFT ma ha anche i pregi di questo tipo di tecnologia risoluzione risoluzione purtroppo non full HD però non si nota più di tanto diciamo che su dispositivi da 6 pollici 6.5 pollici lo noteremmo su invece questo dispositivo da 5.25 pollici la risoluzione HD e non full HD non si nota più di tanto tranne se poniamo questo smartphone di fianco con una medesima foto di fianco a un altro con un display full HD quindi assolutamente ottimo da questo punto di vista quello che c'è di buono è che troviamo anche qui un processore quad core un processore quad core non l'ultimo Snapdragon 800 però già un ottimo quad core da 1.2 GHz che ci consente comunque un'ottima fluidità Samsung su un po' di dispositivi ha deciso di inserire non 2 GB non 1 GB ma 1 GB e mezzo di RAM ma anche questo gran duo Duos presenta infatti 1 GB e mezzo di RAM risulta più che sufficiente non capiamo la scelta da 1 GB a 2 GB pensiamo che lo scostamento a livello di di prezzo o anche di integrazione sia minimo forse proprio per differenziare i vari device e magari abbassare il prezzo piuttosto che alzarlo in un altro memoria interna da 8 GB lo storage è espandibile fino ad altri 64 GB con lo slot micro SD che vi ho fatto vedere prima allora direi di passare adesso al al fulcro della nostra recensione ovvero la prova diretta dello smartphone come potete vedere interfaccia molto veloce migliorata da questo punto di vista la TouchWiz volevo farvi subito vedere che facendo uno swipe dal basso verso l'altro abbiamo la nuova interfaccia notizie di di Samsung interfaccia molto carina molto ben fatta che più la utilizziamo più si adatterà ai nostri ai nostri tipi di utilizzi tipo di ricerca di informazioni adesso lui abbiamo aggiunto altre categorie e automaticamente ce le propone come potete vedere possiamo anche tenere questa interfaccia come principale tenendo come principale questa interfaccia potremo anche avere questa scorciatoia in alto a destra per tutte le app più comuni dal dialer telefonico alla fotocamera ai messaggi a google a internet all'elenco del drawer tornando indietro ci ritroviamo in questa interfaccia allora l'idea è un po' quella di Blickfield di htc buttata all'interno però della classica interfaccia di samsung un'aggiunta o anche un google now in più che si presenta molto bene a livello di interfaccia di ui però per molti utenti secondo me rimarrà nascosta perché non è facile comunque aprire il tipo di il tipo di interfaccia a magazine troviamo anche Blickboard che è in aggiunta a magazine che può essere anche un doppione da questo punto di vista anche se la gestione è leggermente diversa Android andiamo subito a scoprirlo è nella versione 4.3 Jelly Bean dovrebbe arrivare entro pochi mesi speriamo settimane un aggiornamento a KitKat assicurato dalla stessa samsung quindi non dovremmo avere problemi e per fortuna anche perché è uno smartphone piuttosto nuovo menu menu delle impostazioni piuttosto classico troviamo le connessioni che non offre tanto di più rispetto a quanto vediamo in Android Stock dispositivo invece abbiamo la gestione della schermata di blocco e la possibilità di cambiare carattere semplicemente con qualche tocco e la modalità facile consente di utilizzare ormai abbastanza comune questo tipo di interfaccia un'interfaccia studiata per chi non ha grande dismestichezza con gli smartphone e vuole poche opzioni poche icone poche caratteristiche certo utilizzare uno smartphone del genere con questo tipo di interfaccia vuol dire proprio limitarlo al minimo la disattiviamo e torniamo alla classica touchwiz gestione schede sim abbiamo la possibilità di gestire due schede sim sempre attive lui praticamente cosa fa? lui dice che è sempre attiva ma in teoria ogni nanosecondi lui fa uno switch tra una sim e l'altra in pratica noi in teoria le sim quindi non sono contemporanee ma in pratica si noi non avremo la sensazione dello switch dato che è talmente veloce e talmente rapido che non si denota neanche abbiamo poi i controlli controllo vocale la modalità auricolare uso con una mano uso con una mano che l'abbiamo provato in qualche soprattutto con la tastiera risulta comunque ancora scomodo ormai quasi più nessuno lo utilizza con una mano schermo intelligente stand by abbiamo solo la funzione stand by che durante la riproduzione di un video lui praticamente si bloccherà e fermerà il video in automatico nel caso noi chiudessimo gli occhi o guardassimo qualcos'altro anche qua invece nell'ultima schermata del menu nel generale abbiamo una interfaccia che si sposa molto da android stock tenendo premuto il tastino entriamo nel solito multitasking di samsung o anche di android con qualche opzione aggiuntiva come la gestione della ram e dei processi che si possono chiudere in toto ok oppure la scorciatoia a google alla ricerca di google volevo farvi vedere un attimo i messaggi mentre ci siamo tocca per comporre un messaggio tastiera di samsung piuttosto classica viene inserita una riga in più per la gestione di numeri che non sono così in seconda funzione comodi anche se un po' imprecisi non tanto per la dimensione ma quanto per la forma di questi tasti quadrati mentre tutti gli altri tasti sono leggermente rettangolari questi sono quadrati e uno in velocità rischia di sbagliare mi è capitato più volte come potete vedere è comunque molto veloce niente da dire quindi sulla tastiera di samsung group play in questo momento purtroppo non abbiamo un altro dispositivo da samsung da provare però in pratica cosa fa? lui vede nella nostra rete wifi creata direttamente dal dispositivo se ci sono altri galaxy disponibili in modo da condividere dei contenuti sempre funzionato molto bene non vediamo perché non dovrebbe funzionare anche in questo caso andando nel drawer scopriamo una struttura orizzontale anche qua piuttosto classica app già ordinate in tre cartelle troviamo quelle samsung quelle galaxy plus con dropbox inoltre che ci offrirà 50 gigabyte aggiuntivi e quelle google sempre evidenziate in una cartella quelle samsung in pratica abbiamo group play come abbiamo visto prima la radio aggiunta molto gradevole ed esse voice proviamolo un attimo confermiamo ok purtroppo tutte le volte ciao galaxy ciao piacere di conoscerti l'accento non è mai il massimo trovami la divina commedia online ricerca web divina commedia online ovviamente quando lui non ha un riscontro va a ricercare direttamente online quando non ha una query precisa a cui riferirsi proviamo ciao galaxy che tempo fa domani giovedì ci sarà tanto sole e invece stasera ciao galaxy invece stasera non capisco per favore riprovi ciao galaxy traffico verso torino non so se posso rispondere correttamente posso fare una ricerca su internet per traffico verso purtroppo ancora diversi limiti soprattutto nella lingua italiana se voice non paragonabile alla lingua inglese anche google now stessa situazione un po' limitato nella gestione della lingua italiana volevo farvi vedere la fotocamera prendiamo un soggetto a caso ok eccolo qui la batteria fotocamera che mantiene come gli altri top di gamma diverse modalità molto migliore notte sport panoramica colore ricco audio di fondo che fa una foto con un audio di fondo però elimina qualche modalità non ne troviamo tutte come potete vedere tipo nell'S4 avevamo mi sembra tre righe con cinque colonne qua abbiamo tre righe composte da quattro colonne neanche piene ovviamente Samsung più a livello software che hardware vuole limitare il suo il suo tipo di offerta proviamo a fare un audio con foto prova 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 recensione Galaxy Gran Duo Duos se no adesso andiamo a aprirla prova 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 recensione Gal ok a livello di foto pura proviamo a mettere automatico troviamo qualche impostazione niente di particolare e qua qualche effetto nella parte sotto facciamo una foto fotocamera da 8 megapixel più che buona Samsung ci ha sempre abituato abbastanza bene a livello di fotocamera un buon dettaglio c'è solo un po' di imprecisione nel bilanciamento del bianco l'ho notato anche nelle foto all'aperto il bilanciamento del bianco è sempre un po' sparato sui colori chiari qualcosa da rifinire magari soprattutto a livello software in questo Galaxy Gran Duo Duos passiamo alla parte multimediale apriamo la solita nostra cartella di test Dropbox sotto Dropbox andiamo a cercarci Nexus Lab e apriamo il test stiamo con Shakira e con il lettore standard allora audio più che buono superiore a molti altri dispositivi ho già aperto un file abbastanza alto e soprattutto abbastanza corposo ci ha bene impressionato non si può dire assolutamente niente a livello audio puro su questo Gran Duo tranne forse che manca un posizionale almeno uno stereo sarebbe stato utile anche gli avi vengono riprodotti molto bene proviamo con un MP4 in full HD come al solito per testarlo fino in fondo ve lo avvicino guardate i neri intanto che passano non sono sicuramente quelli degli AMOLED ma sono molto buoni anche a livello di luci molto luminoso un buon display nel complesso non posso dirgli niente Samsung sembra aver fatto un buon lavoro anche da questo punto di vista dialer cerca con la ricerca rapida sempre il solito quindi non non mi dilungo troppo ne avrete visti 2000 di Samsung con questo tipo di dialer vorrei fare una menzione particolare per la batteria batteria che con una singola sim senza problemi supera la giornata batteria tra l'altro da 2600 mAh con due sim con lo switch continuo e con il 3G attivo sinceramente più delle 10 ore abbiamo fatto veramente tanta fatica a farle ma più che comprensibile stiamo parlando comunque di un dual sim con 3G attivo è assolutamente un valore più che accettabile quindi assolutamente consigliato questo bottone di vista navigazione web facciamo l'ultima prova usiamo il browser Samsung cerchiamo Nexus Lab andiamo navigazione è molto buona come potete vedere è fluida non presenta grandi problemi pinch to zoom funziona rendering piuttosto buono anche se a volte con lo scroll veloce durante ancora il caricamento della pagina abbiamo la visualizzazione dell'immagine in bianco però veramente molto veloce non potete vedere non possiamo dirgli assolutamente niente in orizzontale la situazione migliora ancora come potete vedere voi stessi se comunque andiamo troppo veloce vediamo questa questo caricamento della pagina in bianco che ne limita un po' la lettura soprattutto se abbiamo un po' fretta ma nel complesso buonissima come navigazione web che dire Samsung ci stupisce in questo periodo più per questi modelli interessanti con un prezzo abbastanza competitivo ci troviamo dai 270 ai 300 euro per questo Galaxy Grand Duo Duos il dual sim di Samsung funziona bene non sarà proprio un contemporaneo puro ma alla fine non ce ne accorgiamo neanche buona estetica molto buona forse superiore anche a più recenti e blasonati dispositivi meramente ben fatto ci piace la cover in simile pelle molto ergonomica e molto salda che dire un dispositivo riuscito che speriamo di vedere sempre di più anche con formule più più top di gamma con questa soluzione Duos perché sul mercato soprattutto italiano vengono apprezzate tantissimo un saluto da Alessandro per Nexus Lab un saluto